Nei miei video ho spesso sottolineato quanto sia importante tener traccia delle proprie spese per gestire al meglio le proprie finanze. E io stesso continuo ormai ad aggiornare mensilmente dal 2013 il mio bel foglio Excel in cui riporto tutte le mie entrate e tutte le mie uscite. Così dopo lo scorso video in cui vi ho fatto vedere tutte quelle che sono state le mie entrate nel 2023, oggi voglio farvi vedere un altro pezzetto delle mie finanze analizzando tutte quelle che sono state le mie spese nel corso dell'anno da poco concluso. Io sono Cristian e da oltre due anni su questo canale vi parlo di finanza personale ed investimenti. E oggi andiamo a vedere in che modo ho speso i miei soldi nel corso del 2023. Le categorie di spesa in cui ho classificato le mie uscite sono in tutto nove, ma prima di andarle a vedere una per una voglio subito farvi vedere un grafico che vi dà un'idea ben precisa di come escono i miei soldi. Come potete vedere infatti c'è solo una categoria che rappresenta più del 50% di tutte le mie spese. Questa categoria è quella che ho denominato tax, che in piccola parte contiene commissioni pagate a banche e piattaforme di investimento, ma che rappresenta soprattutto le tasse pagate allo Stato come IVA, IRPEF e contributi IMSS, che vista la situazione contributiva italiana considero una tassa vera e propria. Lavorando con partita IVA infatti sono io a pagare direttamente le mie tasse. E quindi a differenza dei lavoratori dipendenti che non ricevono proprio quei soldi sul proprio conto corrente, io per semplicità devo tenere traccia delle tasse che ho pagato all'interno delle mie voci di spesa. I soldi spesi nella categoria tax nel 2023 sono quindi stati un totale di 29.144,74€. Quindi come vedete sono più i soldi che pago allo Stato sotto forma di tasse di quelli che spendo per le mie effettive necessità. Dopo aver quindi visto la categoria predominante andiamo ad analizzare una per una le altre otto categorie. La categoria in cui ho speso meno soldi nel 2023 è stata quella che ho denominato CAR, in cui ricadono tutte le spese relative alla mia automobile. In realtà non utilizzo molto la macchina e infatti credo che questa categoria di spesa sia tutto sommato molto contenuta. Ho infatti speso un totale di soli 786,81€. Leggermente di più ho invece speso quest'anno nella categoria SHOPPING, in cui ricadono varie tipologie di acquisti tra cui probabilmente la parte predominante è rappresentata dagli acquisti in abbigliamento. Per questa categoria nel 2023 ho speso un totale di 1011,73€. A seguire troviamo la categoria wellness che racchiude tutte quelle spese fatte per la salute, la cura personale e il fitness. Quest'anno, oltre a praticare vari sport a livello amatoriale, ho iniziato anche ad andare in palestra e i soldi spesi per l'abbonamento della palestra li ho inseriti in questa categoria, perché onestamente non vedo la palestra come un'attività piacevole o divertente, ma più come una sorta di investimento su me stesso e sulla mia salute. Per la categoria wellness ho quindi speso in tutto 1122,01€. L'attività sportiva che invece faccio per puro piacere personale l'ho inserita nella categoria FUN. Insieme ai soldi spesi per libri, piattaforme di streaming audio e video e altre attività ricreative. Durante quest'anno ho giocato spesso a calcetto, ma soprattutto ho scoperto il padel. E nella prima metà dell'anno, quando ne ho avuto la possibilità, ho giocato praticamente ogni giorno spendendo di conseguenza un sacco di soldi in racchette, palline e campi da gioco. Così come un bel po' di soldi li ho spesi anche per gli abbonamenti di varie piattaforme audio e video come ad esempio Spotify, Netflix, Prime Video e Disney+. Alla fine il totale di soldi spesi per questa categoria è stato di 1925,48€. La prossima categoria l'ho chiamata housing e racchiude tutte le spese legate alla casa, in cui ciò che pesa maggiormente è il costo degli affitti. Queste spese fanno in gran parte riferimento al primo periodo dell'anno, quando ancora vivevo a Barcellona, dove ho vissuto fino alla fine di aprile, e vi assicuro che tra affitto e altre spese vivere a Barcellona aveva per me un costo non indifferente. Prima di farvi vedere la cifra voglio infatti precisare che nel numero che vedremo tra poco non sono considerati gli affitti dei mesi di gennaio e febbraio che avevo già pagato nel 2022, ma soltanto quelli di marzo e aprile. Il totale di questa categoria nel 2023 è stato quindi di 2615,34€. Nella categoria food ho poi inserito tutte le spese relativi a supermercati, bar, ristoranti e ordini dalle varie app di delivery. E dato che, come avrete capito, stiamo vedendo le varie categorie in ordine crescente di spesa, quello che ho pagato in food nel 2023 è stato ancora di più rispetto a tutte le altre categorie viste finora. Ho infatti speso 2700,52€. La penultima categoria che vediamo l'ho chiamata business e racchiude tutte le spese fatte per portare avanti la mia attività lavorativa. Questa categoria nel 2023 è abbastanza pesante perché ho rinnovato nel corso dell'anno buona parte dei miei dispositivi elettronici, comprando tra le altre cose un nuovo Mac e un nuovo iPhone. Inoltre racchiude vari altri costi tra cui consulenze, corsi di formazione, servizi web e spese telefoniche. Il totale è stato di 8205,14€. Con l'ultima categoria che vedremo tra poco, che è escluse le tasse e la categoria in cui spendo di più in assoluto, si capisce molto bene come sono fatto e in cosa realmente amo spendere i miei soldi. E a vedere il numero che vi mostrerò tra poco mi rendo conto che forse dovrei un po' frenarmi. Prima però è probabile che chi ha già visto il video sulle mie entrate, che per fortuna sono più alte delle mie uscite, si stia chiedendo cosa ci faccia io con i soldi che non spendo. In realtà chi mi segue da un po' lo sa già, li investo. E se è vero che negli scorsi due anni ho investito in varie tipologie di asset differenti e su diversi broker, ho deciso che nel 2024 semplificherò al massimo i miei piani di investimento utilizzando per l'acquisto di azioni un unico broker, che è quello che più mi ha convinto tra tutti quelli che ho utilizzato finora. Sto parlando di Scalable Capital, un broker tedesco, sicuro e facile da utilizzare, che offre la possibilità di investire in azioni di ETF e che conta già più di 600.000 clienti e oltre 16 miliardi di euro investiti. Nel 2024 Scalable offre ai nuovi clienti un bonus che può arrivare fino a 50 euro se si decide di iniziare ad investire con loro e si rimane clienti per almeno 6 mesi. E se invece del piano gratuito si decide di passare al piano Prime Plus, si ottiene anche un interesse sulla liquidità non investita del 4% lordo. Perciò se state cercando un broker sicuro ed affidabile per i vostri investimenti, vi invito a cliccare sul link che vi lascio in descrizione e a provare Scalable Capital. Vi ricordo però che non sono un consulente finanziario e che investire comporta sempre dei rischi. Perciò fate sempre le vostre valutazioni personali prima di investire i vostri soldi. Dopo questa breve parentesi non ci resta che vedere l'ultima categoria delle mie spese, che è la categoria Travel, che raggruppa tutte le spese fatte durante i miei viaggi in giro per il mondo per hotel, voli, treni, autobus e taxi. Viaggiare è probabilmente la cosa che amo di più in assoluto e nel 2023, oltre che in Italia e in Spagna, sono anche stato in Andorra, Francia, Polonia e Israele, chiaramente prima che scoppiasse la guerra tra lo Stato israeliano e Hamas, ma soprattutto ho fatto due grandi viaggi che mi sono costati un po' ma che mi hanno lasciato dei ricordi stupendi. Uno in Uzbekistan, un paese straordinario che ho voluto raccontarvi in un video dedicato, e l'altro al freddo della Lapponia svedese, dove sono stato per la fine dell'anno e che magari vi racconterò tra qualche settimana qui sul canale. Fatto sta che viaggiare costa e per la categoria Travel nel 2023 ho speso la bellezza di 10.288,66€. Dopo aver visto la categoria Travel possiamo quindi finalmente fare una panoramica complessiva e vedere che per le mie necessità durante tutto il 2023 ho speso un totale di 28.655,69€. Ma per avere effettivamente il quadro complessivo dobbiamo aggiungere a questo numero anche la categoria Tax che abbiamo visto all'inizio e quindi il vero totale delle mie uscite durante il 2023 diventa di 57.800,43€. Per curiosità sono poi andato a recuperare i dati dello scorso anno relativi al 2022 e ho notato che in quell'anno avevo speso un totale di 29.832,11€ che in realtà è molto vicino a quanto ho speso quest'anno se non consideriamo le tasse. Quindi effettivamente posso considerare 30.000€ come mio budget annuale. Chiaramente entrate e uscite sono soltanto una parte delle mie finanze perciò nel prossimo video andremo a completare il quadro e a vedere come sono andati i miei investimenti e come si è evoluto il mio intero patrimonio nel 2023. Perciò invito chi ancora non è iscritto al canale a cliccare sul tasto iscriviti e a continuare a seguirmi. Se farvi un po' gli affari miei è stato di vostro gradimento vi chiedo di lasciare un bel like a questo video per supportare il mio canale e farmi sapere nella sezione commenti cosa ne pensate e se volete chiaramente fatemi anche sapere quante sono state le vostre spese durante il 2023 io intanto vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.